ma guarda ero fissato sulle botte adesso quando metto una revisione del cambio ho detto no hanno messo a posto loro e stavo pensando al cambio poi quando ho realizzato ho detto no il cambio va bene infatti è stata bella quella risposta facci lecca però diciamo che per l'età che ho va ancora bene noi appunto noi facciamo un candy camera queste qui saranno tante situazioni diciamo imbarazzanti all'interno della concessionaria a lei le è capitato questa potrebbe capitarle una un po' meno ma però è stato simpatico noi abbiamo un canale dove facciamo uscire ogni mercoledì una candy camera il fattore è che posso sedermi qua? è di là però ero concentrato non si è accorto che sono tornato così nel senso dopo collegato ho collegato dopo perché ho detto posso sedermi qua? io ho detto sì sì ma ho detto glielo avevo già detto prima ma non è che ho guardato poi un attimino con il giro pagina ho guardato un attimo però ho detto no non ho realizzato tanto ma quello che è venuto era un legato io lo girerei mi sa che però si aspetta è che qua non c'è calda abbastanza eh perché non l'abbiamo voluto accendere per comunque non farle consumare anche il gasolio va bene tanto il gasolio me lo faccio in calda perfetto ma no ma non l'aveva capito aspetta che tolgo il nasello dalla macchina noi facciamo candid camera abbiamo un canale su youtube nostro e in accordo con loro sì sì infatti perché in concessionaria si possono fare tante cose quella è stata molto più molto simpatico anzi ce l'ha fatto lei dopo un po' il controscherzo nel senso che vorrebbe mangiare giustamente il nasello il signore la macchina comunque c'erano 600 euro di fattura in più dico mi scontate il nasello però i 600 euro li avrebbero vagati potrebbero fare un affare non è differente dovete comprare un po' di naselli e poi infatti questa tirano su una truffina no e niente il nostro canale si chiama The Show e lo può trovare per esempio su google se lo cerca il primo risultato perché siamo comunque i primi in Italia a fare questa cosa qua se si mette come motore di ricerca candid camera si se mi mette candid camera concessionario per esempio verrà fuori proprio questo video quando poi andremo a metterlo io non le stringo la mano perché ho toccato il nasello perché faceva fumo bianco la sua macchina aveva detto abbiamo trovato questo qua nel filtro del gasolio cioè deve essere un nasello c'è un ragazzo che pesca nel filtro del gasolio questo qua causava quel fumo bianco perché Expo? no, non sapete perché si chiama Expo Expo sta per ex poveri cioè qua si, diciamo, si sancisce la superiorità della ricchezza sulla povertà